Ultimo appuntamento con informazione di Florence TV sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera ad Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di materiali dispersi si registrano 6 km di coda tra Calenzano VI Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso invece in direzione Roma. Sempre in A1 a causa di lavori, 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Uno sguardo alla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Ponte d'Erest e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze, 2 km di coda invece tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Cantieri di Firenze domani in orario 9.18 chiusa via Federico da Montefeltro nel tratto via Di Ripoli via Fratelli Gualandi. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!